ciao e benvenuto a questo nostro nuovo video che tratta di problematiche varie diciamo più o meno pratiche che riguarda noi chitarristi allora questo video lo potrei un po definire un video tambu dei miei vecchi video tambu se vuoi vedere la playlist dei video tambu incazzusi di quelli che ogni tanto mi fanno girare un po le scatole vai nella mia playlist sul mio canale youtube giulia guitar coach e vedrai che ne troverai ecco questo però potrebbe far parte di quel tipo di video lì perché perché ho letto veramente una marea una marea una marea ma veramente un'infinità di post o qualcuno mi ha scritto mi dice ma veramente io posso imparare a suonare la chitarra e gente che non ha magari non lo so cioè non è neanche definibile l'età perché a me quando mi rivolgono questa domanda già vado in ebollizio dico eh vabbè ma non è possibile ma non è possibile ma che razza di domanda è è come se ti dicessero a 50 anni tu non puoi prendere la patente e tu direi ma perché non posso prendere la patente ma chi sei tu per per impedirmi e per dirmi che io non posso prendere la patente ecco la stessa cosa vale per suonare la chitarra chi ti dice che tu non sei in grado di poter suonare la chitarra dove sta scritto in quale libro fammi vedere chi è questa persona che ti dice questa cosa fallo parlare con me che gliene dico io quattro chi è che si permette di dirti una cosa del genere assolutamente falso assolutamente falso falsissimo non esiste non esiste qualcosa che noi non possiamo fare pur avendo eh età diverse c'è gente che si è ehm diplomata o ha preso la laurea e aveva mica 60 anni ne aveva molte di più un sacco di gente si è comunque laureata aveva ma non voglio esagerare ma 70 anni 75 anni perché aveva questo desiderio di laurearsi di prendere anche la licenza media perché tanti poveretti non avevano avuto questa possibilità e tu ti fai problemi perché hai 30 anni 40 anni ah c'ho 40 anni ah la mia veneranda età 68 anni chissà se riesco a imparare a suonare la chitarra ma dai ma veramente ma cioè ma siamo seri siamo seri ma non esiste cioè è come se tu allora ti vuoi dare una un limite a una qualsiasi cosa tu voglia fare perché devi limitarti perché non vuoi dare la possibilità a te stesso di imparare a fare una cosa anche molto bella tra l'altro molto bellissima perché chi è che si arrega il diritto di dirti ma fatti furbo fatti furba ma figurati se tu adesso devi andare a fare questa roba qua ma perché poi cioè vedete poi la gente poi noi ci facciamo molto influenzare dalle persone quindi non va bene questa cosa a maggior ragione non va bene a maggior ragione devi essere tu proprio tu a dire ma cosa te ne frega a te se io voglio il problema è che a volte siamo noi stessi che ci poniamo il dubbio ma sarò bravo a fare questa cosa ma ci riuscirò ma ce la farò ma scusatemi ma perché vi dovete fare tutte queste domande che non servono a un tubo buttati fai prova che cosa te lo impedisce tu stesso te lo impedisci con tutte queste domande inutili queste sono domande che non servono a niente sono domande che non ti portano da nessuna parte ma anzi ti limitano e grazie lo devi dire a te stesso che dici ma forse non lo so ma non se sono sicuro ma come prima vuoi di dici che vuoi imparare poi dice a te stesso che non lo sai ma vediamo come si suol dire di fare un po pace col proprio cervello è cerchiamo di essere coerenti lo vuoi fare o non lo vuoi fare perché se lo vuoi fare ti butti e vai cioè non ci pensi minimamente non devi farti venire un sacco di dubbi ma perché poi perché ma veramente vorrei che scrivessi nei commenti qua sotto quali sono state le tue domande depotenzianti le tue domande limitanti ma poi c'è gente guarda su su internet su youtube ci sono le persone molti americani in realtà che ha veramente a veneranda età fanno suonano chitarre blues o fanno dei motivi cioè veramente delle robe che dici però ma vedi guarda un po questo mi che bravo avrà cominciato si avrà avuto cinque anni quando avrà cominciato però voglio dire non è detto che lui abbia sempre suonato che ne sai se ha avuto una battuta d'arresto che ne sai se ha dovuto andare in guerra che ne sai di che cosa può essergli capitato nella vita ci sono persone addirittura che suonano con i piedi e non perché suonano male ma perché non hanno le braccia cioè ma e tu ti fai tutte queste seghe mentali perché ah non so se riesco se faccio farò bene farò male magari sono un po impedito magari sono un po non lo so incriccato ma e allora qual è il problema questo è il problema questi sono i problemi che ti limitano complimenti allora ti faccio una domanda tu vuoi imparare a suonare la chitarra per quale motivo c'è un motivo ecco parti da qui se parti da qui secondo me già facciamo un bel lavoro è perché forse forse se ti dai una risposta vera e sincera allora possiamo possiamo parlarne oppure e te ne faccio una altre due perché vuoi perché dovresti imparare a suonare la chitarra e perché non dovresti questa è una classica tecnica che serve per quando uno deve prendere delle decisioni prendi un bel foglio lo dividi in due sì chitarra no chitarra scrivi da una parte tutte le motivazioni che ti spingono a voler suonare la chitarra nell'altra colonna tutte le motivazioni che non ti spingono diciamo così a suonare la chitarra scrivi scrivi fai poi una media magari scrivimelo scrivimelo anche a me nei commenti mandami un pdf un word una foto quello che vuoi parliamo insieme ti dico per chiudere non non esiste limite di età per qualsiasi cosa tu voglia fare e non porti tu stesso dei limiti perché poi alla fine il peggior nemico o il miglior amico dipende dai punti di vista ma il peggior nemico in questo caso sei proprio tu assolutamente sì quindi vedi tu che cosa vuoi fare e quindi se vuoi puoi anche proseguire a sentire questo questo il prossimo video oppure se vuoi io ho preparato un una playlist che si chiama video tambu guitar dove rispondo a un bel po di domande che riguardano gli aspiranti chitarristi quindi se hai piacere di pipparti 16 lezioni che sono abbastanza insomma sono tante effettivamente ma se hai davvero desiderio prova a cercare quella c'è un trio mi pare di video dove dice addirittura i vantaggi del suonare la chitarra se non ti convince quello guarda non lo so vedi tu comunque ripeto il miglior o peggior consigliere di te stesso sei tu quindi sei tu che devi decidere cosa fare e cosa non fare per oggi direi che è tutto e seguimi nei miei canali social come ti ho detto instagram facebook e youtube giulia guitar coach e ti aspetto nei miei prossimi video e ricordati e ricordati che suonare la chitarra è uno stile di vita ma che tutto parte dalla testa dalla tua e ci siamo capiti ciao 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 ciao